Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo alla presentazione della nuova Green Refinery di Gela che si svolta oggi come vediamo nelle immagini, nei locali della raffineria Eni erano presenti vertici del settore downstream Eni di Enimed e raffineria di Gela l'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare i dettagli del progetto di riconversione della raffineria a ciclo tradizionale in Green Refinery e per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori a soli due mesi dal rilascio delle autorizzazioni della prima fase le attività procedono speditamente e in linea con il programma previsto nel protocollo d'intesa firmato il 6 novembre del 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico durante l'incontro sono stati forniti gli aggiornamenti delle altre attività previste nel protocollo che analogamente alla Green Refinery sono in linea con il programma all'incontro di oggi hanno preso parte i vertici di Eni Salvatore Sardo e Luigi Ciarnocchi quest'ultimo responsabile Eni del programma Gela servizi ed approfondimenti saranno mandati in onda nelle prossime edizioni del telegiornale sta seguendo l'incontro per noi il collega Franco Gallo ha accusato un malore l'operario della SMIM Impianti che da due giorni è arrampicato su una delle putrelle che reggono il tetto del capannone industriale in contrada piana della signore Matteo Guerrieri, 45 anni, nisce mese, padre di tre figli, sposato, non lavora da gennaio e non percepisce né salario né cassa integrazione da otto mesi cui si aggiungono una tredicesima e due quattordicesime non pagate oggi in prefettura Caltanissetta è previsto l'incontro ottenuto dai sindacati Cigelle, Cisle e Will assieme alle categorie del settore metalmeccanico le sigle sindacali ribadiscono l'esigenza di porre fine ad un comportamento lontano dal mondo del lavoro da parte delle istituzioni politiche regionali che avevano e hanno il dovere di dare risposte chiare e nette in riferimento a tutte le misure di sostegno al reddito così come le Eni dicono deve assumere un comportamento leale con la città se i cantieri sono stati avviati e gli appalti affidati conclude la nota, tutto deve essere visibile e quindi riscontrabile Cambiamo argomento e parliamo del blizzo operato al mercato ortofrutticolo di Gela da parte di Carabinieri e Polizia Municipale sequestrati tre tonnellate e mezzo di frutta denunciate due persone e segnalati dodici venditori ambulanti abusivi blizzo al mercato ortofrutticolo di contrata Giardinelli e Gela Carabinieri del reparto territoriale, militari del NAS, nucleo antisofisticazioni e agenti della Polizia Municipale settore Annona hanno passato al setaccio i vari box al fine di riscontrare la presenza delle autorizzazioni all'interno del sito e verificare la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari posseduti dai commercianti sono state riscontrate numerose anomalie sotto posse di un controllo una cinquantina di rivenditori di frutta e titolari di alcuni box esistenti all'interno del mercato due cittadini gelesi di 57 e 61 anni sono stati deferiti alla procura della Repubblica per avere costruito opere abusive all'interno del mercato per invasione di edifici pubblici secondo quanto accertato hanno utilizzato indebitamente dopo averlo forzato un box di proprietà comunale senza alcuna autorizzazione durante l'attività di verifica i militari dell'arma e gli agenti della Polizia Municipale hanno sanzionato 10 rivenditori perché totalmente abusivi e hanno sequestrato 3 tonnellate e mezzo di frutta perché di dubbia provenienza e non adatta al consumo umano la merce sequestrata sarà poi distrutta mentre sono in corso ulteriori accertamenti sulla titolarità delle licenze di commercio su eventuale pratica di interposizione fittizia nella gestione delle attività economiche due dei soggetti identificati questa mattina all'interno del mercato hanno alle spalle condanne per associazione di tipo mafioso complessivamente le sanzioni amministrative elevate nell'operazione ammontano circa 10.000 euro i controlli di oggi rappresentano soltanto il prologo di una più vasta operazione cosiddetta di pulizia per individuare coloro i quali non sono in possesso dei relativi requisiti fissati i mandati di pagamento per consentire di liquidare gli stipendi al personale che opera nelle comunità alloggio per minori saranno pagate le rette relative ai primi 4 mesi del 2016 lo ha assicurato il sindaco di Gela Domenico Messinese che ha convocato un tavolo tecnico con il dirigente dei servizi sociali ed il segretario generale assieme al consigliere comunale Carmelo Casano che ha focalizzato la problematica il primo cittadino ha verificato che le somme in bilancio sono disponibili e ha di conseguenza dato mandato di liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprire a breve gli uffici provvederanno anche al pagamento dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 i cui fondi devono essere accreditati al comune dalla regione che ha già avviato la procedura per trasferire le somme entro il mese di luglio il sindaco conta di azzerare gli arretrati mensilità arretrate, riduzione al 60% degli stipendi ed è protesta per i 120 lavoratori del consorzio di bonifica di Gela e Caltanissetta in Sitin e dinanzi la prefettura per difendere i propri diritti uno stato d'agitazione nato all'indomani della riforma giorni addietro annunciata dall'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici durante il convegno regionale di Coldiretti Sicilia e che consiste in un taglio dei consorsi di bonifica che entro la fine dell'anno da 11 passeranno a 2 e saranno direttamente gestiti dagli agricoltori La nostra situazione attuale è praticamente allucinante da 20 anni ci ritroviamo ancora ad essere precari all'interno del consorzio di bonifica 5 di Gela e non abbiamo nessuna prospettiva né di futuro La parte economica poi non ne parliamo ci utilizzano per tutti quanti i lavori assegnati alle opere pubbliche del consorzio ma sempre sottopagati con un sussidio misero e ad oggi qui siamo riuniti davanti a questa prefettura per manifestare tutta quanta la nostra protesta Un tavolo di concertazione con i dirigenti dei consorzi agricoli di Caltanissetta e Gela è ciò che è stato in seguito deciso al termine di una riunione con il capo di gabinetto del prefetto Elisa Borbone La situazione attuale oggi dei consorziati di Caltanissetta è una situazione che si sta sempre peggiorando da giorno in giorno questo è dovuto al fatto che la regione Sicilia non eroga più il contributo consortile così come era previsto dalle norme precedenti Questo sta comportando anche per i lavoratori dei consorzi di bonifica una continua umiliazione perché da mesi che non percepiscono stipendi non riesce il consorzio di bonifica più ad avere le somme necessarie per la gestione del consorzio il consorzio di Caltanissetta che ha una condotta di 330 km in tutto il comprensorio e ha un'estensione di 33 mila ettari di terreno Noi rischiamo abbiamo sopportato e continuiamo a sopportare questa grave carenza siamo arrivati a otto mesi di mancata retribuzione lo scorso anno quest'anno siamo arrivati a cinque mesi voi capite benissimo che in questa fase avremmo grosse difficoltà se la regione non ci dà una mano d'aiuto se l'assessore o qualcuno dei politici non si muove a venirci incontro affinché possiamo iniziare a fare un servizio di irrigazione Come fa il sistema chiediamo che vengano repressionate le regole del vivere civile e il rispetto delle leggi perché è impensabile che gli imprenditori agricoli che fluiscono di un servizio si sentano autorizzati di non pagare il servizio reso inoltre alla politica chiediamo che venga fatta una seria programmazione per quanto riguarda l'organizzazione dei consorzi di bonifica perché senza nessuna programmazione senza nessun indirizzo politico è programmatico non è possibile avviare nessuna attività e quindi gli indizi trovano nella difficoltà di erogare servizi indispensabili all'unico settore che è quello agricolo che riesce ancora a produrre un prodotto interno lordo in consegno positivo Torniamo a Gera si svolgerà sabato 11 giugno prossimo presso la parrocchia San Sebastiano Martire il giubileo degli ammalati dei disabili e delle associazioni di volontariato presenti nel territorio diocesano per l'occasione sarà esposta all'originale immagine della graziosa vergine degli ammalati che ha dato inizio alla devozione della Madonna delle Grazie venerata nella chiesa dei Cappuccini di Gela il raduno delle varie associazioni di volontariato evento che accade per la prima volta nella diocesi inizierà alle 17.30 presso la scuola Fuentes dove le associazioni ognuno con i propri labari e divise accoglieranno l'icona della Madonna e il Vescovo seguirà il prelegrinaggio giubilare che si concluderà nella parrocchia di San Sebastiano dopo alcune testimonianze di fede Monsignor Rosario Gisana presiderà la solenne celebrazione eucaristica e adesso occupiamoci del convegno che si è svolto all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela sulla ventilazione non invasiva in pediatria Ventilazione non invasiva in età pediatrica è stato l'argomento dibattuto nell'auditorium dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela nel corso del convegno che ha visto la presenza di numerosi pediatri personale sanitario l'obiettivo è quello di offrire all'utenza le metodiche diagnostiche terapeutiche delle linee guida più recenti elaborate dalle società scientifiche Dottore che cosa è la ventilazione non invasiva e che cosa vuol dire in termini di salvezza proprio di una vita ci sono delle insufficienze respiratorie poi al di là del fatto che siano nel neonato nel lattante nel bimbetto un pochettino più grande individuato il tipo di insufficienza respiratoria una ventilazione non invasiva che poi in pratica significa semplicemente senza intubare il bambino quindi senza questa pratica un po' cruenta se vogliamo consente permette di prevenire le insufficienze respiratorie che vanno ad intubazione quindi riconoscerla in tempo ed attuare questo tipo di ventilazione che poi è anche semplice chissà cosa sembra vederla però se uno poi praticamente lo vede si rende conto che è una semplicità unica e sola e offre una qualità di assistenza meravigliosa anche in termini di confronto del demogas 20 minuti di ventilazione non invasiva migliorano il paziente in una maniera spettacolare documentabile dall'emogas analisi questo ci ha convinti e ci scommettiamo senza nessun tipo di problema perché abbiamo medici infermieri assolutamente motivati a crescere io lo sto vedendo tanto che da un po' di tempo offriamo dei servizi come dire differenziati cioè specialistici non una pediatria di ordine generale facciamo la dermatologia facciamo l'allergologia facciamo la neonatologia col fallo up ci organizzeremo per altre cose che non voglio anticiparvi perché man mano ci qualifichiamo e li offriamo poi all'autenza il convegno di ieri è il secondo step della formazione continua per i pediatri che è cominciata lo scorso anno lei ha fatto vedere ai suoi colleghi gelesi un video abbastanza semplice quanto esplicativo di queste manovre di questa nuova pratica non invasiva per i neonati quali sono le più importanti novità apportate da questo nuovo trattamento fondamentalmente il trattamento è stato importato dalla medica da John Bach che è stato realmente l'antisignano di queste metodiche qual è il razionale il razionale fondamentalmente aiutare chi non riesce a tossire chi non riesce a eliminare le secrezioni aiutarlo in maniera esterna come grazie a una macchina che non fa altro che simulare la tosse noi come tossiamo aumentiamo la pressione dentro la capacità toracica e poi eliminiamo una pressione negativa e questo ci fa buttare le secrezioni fondamentalmente la mie che è questa in essufleto che vi ho fatto vedere simula questo cioè non è altro che riuscire a sopperire un'incapacità del soggetto a tossire lo riusciamo a sopperire grazie alla macchina e Fabiola Polara ha raccolto le testimonianze di altri illustri relatori sentiamo una ventilazione nuova una possibilità nuova per aiutare dei piccoli pazienti che in realtà non riescono a chiedere aiuto spesso però con un trattamento nuovo che migliora la qualità della vita sì sono sempre di più i pazienti che hanno patologie respiratorie acute o croniche che si possono riacutizzare pazienti con malattie neuromuscolari pazienti con malattie di altro tipo che hanno bisogno di una ventilazione sia in ospedale che travolta anche a casa a domicilio la ventilazione non invasiva è una ventilazione che non necessita di intubazione quindi permette un approccio attraverso il naso canno la maschera facciale di un approccio respiratorio meno invasivo ma che permette di gestire con meno fatica respiratoria con più possibilità di ossigenazione e di smaltire la CO2 questi pazienti noi stiamo portando avanti questo corso formativo che è molto importante perché sia i medici ospedalieri che i medici del territorio è importante che conoscono queste tecniche perché fondamentalmente con la sopravvivenza di molti prematuri con la sopravvivenza e il miglioramento delle condizioni di salute diciamo di varie malattie che adesso vengono curate e più spesso questi pazienti diventano pazienti cronici è necessario che molti di più siano a conoscenza queste tecniche che le possano attuare dottore come reagiscono le famiglie i parenti del neonato al nuovo trattamento allora la prima reazione è sicuramente di paura perché non la percezione che sia aggredito da tecniche che possono fare male al loro bambino poi dopo pochi minuti dopo pochi minuti si rendono conto che il bambino ne ha un beneficio prima il bambino si oppone piange contrasta poi comincia ad averne un beneficio e quindi si rasserena e questo naturalmente induce la madre ad essere più tranquilla che è la scelta che hanno fatto i medici è una scelta nell'interesse del bambino ovviamente e quindi comincia a guadagnare anche un po' di fiducia nei confronti dell'operato del medico i nuovi trattamenti di ventilazione sono diversi il caschetto o anche una tecnica con delle piccole manovre voi quale utilizzate? noi nel nostro centro utilizziamo prevalentemente l'ossigenoterapia ad altiflussi che è una tecnica minimamente invasiva che si eroga a una miscela di riossigeno umidificata e riscaldata attraverso delle nasocannule che non disturbano il bambino il bambino continua ad alimentarsi al poppatoio è una patologia in genere si utilizza prevalentemente nei bambini della prima infanzia quindi il primo anno di vita ed è una tecnica che sta prendendo sempre più piede altre tecniche sono tecniche del casco sono entrambi due tecniche valide l'importante è che ogni centro utilizzi la tecnica che gli operatori sanno gestire meglio l'unità operativa di riabilitazione di via Madonna della Rosaria di Gela rimarrà chiusa venerdì 10 giugno prossimo per disinfestazione gli uffici riapriranno lunedì 13 il piano di riordino della viabilità nel centro storico di Gela continua a far discutere ieri il comitato di quartiere dello stesso centro storico ha evidenziato alcune problematiche che interessano la zona il riferimento è alla ZTL i residenti del Corso Vittorio Emanuele della via Bresmes cioè quelle vie interessate al provvedimento della ZTL e anche della nuova viabilità hanno manifestato le loro perplessità per non poter raggiungere le proprie abitazioni durante l'orario di ZTL soprattutto perché si protrae fino alle 3 del mattino quindi c'è una richiesta forte da parte dei residenti di poter raggiungere le proprie abitazioni per sostare brevemente e per il carico e lo scarico di merci su pellettili tutto quanto altro può servire a una normale via eravamo d'accordo per una ZTL con un orario decente settimanale che poteva essere aumentato nella fine settimana ma tutti i giorni fino alle 3 di notte diventa insostenibile il comitato di quartiere avanza alcune proposte all'amministrazione comunale è nata anche l'esigenza da parte di tutti i residenti del centro storico di cancellare queste benedette micro aree per la sosta gratuita dei residenti e trasformarle in macro aree cioè avere la possibilità in ampie zone di poter parcheggiare un'altra richiesta che è venuta è venuta fuori è quella della verifica delle strisce blu perché in centro storico esistono soltanto strisce blu con pochissime strisce bianche e anche dell'occupazione abusiva tra virgolette da parte degli automezzi comunali che sono disseminati lungo tutto il tragitto delle strisce blu impedendo agli altri di poter sostare tranquillamente lo stesso comitato di quartiere attende ancora di avere un incontro con la sindaco per i temi che interessano l'acqua la pulizia la manutenzione e la sicurezza cerimonia di premiazione del 26esimo premio nazionale gorgone d'oro promosso dal centro di cultura e spiritualità cristiana Salvatore Zuppardo si terrà sabato 11 giugno alle 18.30 al cineteatro antidoto di Macchitella a Gela saranno premiati assieme ai vincitori dal concorso di poesia Roberto Tufano studioso dell'illuminismo europeo dell'università di Catania Giuseppe Gurciullo direttore della biblioteca dei Capuccini di Siracusa Vincenzo Pirdotta della fondazione Inda di Siracusa l'attore Enrico Guarneri Litterio ed il giornalista del TG5 Carmelo Sardo l'ingresso è gratuito ci fermiamo lì nella regia per la pubblicità seconda parte del telegiornale che apriamo parlandovi degli ottimi risultati conquistati dalla scuola Ettore Romagnoli di Gela in ambito musicale Reduce dagli ultimi successi conquistati in ambito musicale l'orchestra della scuola Ettore Romagnoli di Gela si è esibita ieri dinanzi al proprio pubblico nei locali dell'auditorium dell'istituto scolastico ancora prestigiosi traguardi per chi sposa il progetto musicale riconoscimenti in serie abbiamo partecipato il 30 maggio a De Cereale un quinto concorso internazionale dove noi siamo rossificati primi con l'orchestra primi con una musica da camera formata da flauti e trompe poi un secondo posto un duo di chitarra un altro primo posto un quartetto di chitarra e poi dopo i solisti abbiamo avuto un ragazzo di terza media l'Ambri Vincenzo che ha fatto il secondo posto un altro secondo posto il pianista è Fidone Emanuele e un primo posto di un ragazzo di prima che ha stupito proprio la commissione un suono cioè spettacolare proprio un ragazzo di prima si trovasse scioccati e ha fatto il primo posto e Michele Vitale poi il 31 maggio abbiamo partecipato alla terza edizione del concorso Gela Semi Music di Gela dove siamo arrivati anche al primo posto il dirigente scolastico Sandra Scicolone parliamo di una scuola che è già al ventiduesimo anno di indirizzo musicale e quindi è una scuola che ha maturato una grande esperienza anche in sede di concorsi nazionali e internazionali certo quest'anno c'è stato una sorta di cambio di passo nel senso che anche grazie all'inserimento di ulteriori strumenti all'interno del nostro parco offerta formativa e quindi ad esempio all'inserimento delle percussioni delle chitarre elettriche è stato possibile veramente raggiungere un suono un ritmo molto particolare che opportunamente guidato dai docenti del dipartimento di strumento un dipartimento quest'anno estremamente affiatato estremamente brillante e tra l'altro anche integrato dalle come dire degli aspetti positivi della legge 107 della buona scuola l'organico di potenziamento abbiamo un docente potenziatore proprio di strumento beh mi pare che siano stati raggiunti veramente risultati molto russinghieri che intanto danno soddisfazione alle famiglie perché vedono che i loro figli non solo vengono a scuola ampliando tra l'altro l'attività curriculare per imparare uno strumento ma lo fanno anche per imparare uno strumento e suonarlo insieme agli altri ottenendo dei risultati comuni la famosa tragedia di Eschilo 7 contro Te ben rivisitata in chiave moderna sarà in scena al Teatro Eschilo di Gela domenica 12 giugno alle 19 saranno i corsisti della scuola di formazione dello stesso teatro a rappresentarla diretti dalla regista Francesco Longo che ha curato con genialità particolarità ed impegno il saggio finale la scuola sperimentale avviata ad ottobre ha visto la partecipazione di 14 corsisti che hanno potuto assistere alle lezioni di teoria e pratica avvalendosi della bravura di illustri nomi come Tuccio Musumeci Romano Bernardi Guia Ielo Emanuela Muni ed ancora del produttore teatrale Orazio Turrisi e dell'attrice Maria Carla Aldisio che ha curato la dizione Teatro sotto le stelle all'antidoto di Gela tutti gli spettacoli si terranno all'aperto si comincia venerdì 24 giugno alle 21.30 con attenti a quei due della compagnia antidoto la rassegna si concluderà a settembre l'ingresso è di 5 euro a coppia è prevista anche l'esibizione di Giobbe Covatta la voce di Edoardo De Filippo il dipinto mattanza ellenica di Michele Ruvolo è la sedia su cui nel 43 sedetta Eisenhower per la stipula dell'armistizio di Cassibile al centro della scena elementi emblematici utilizzati dal regista Michele Celeste per rappresentare l'arte come forma di resistenza e mezzo unico di sopravvivenza per l'uomo un atto di resistenza vissuto attraverso il corpo la commistione di idiomi dialetti e linguaggi che si intrecciano in un unico flusso narrativo per far parlare l'arte i poeti i filosofi per donare allo spettatore quel calaideoscopio attraverso cui assistere alla manifestazione della diversità come espressione della pura bellezza originaria questo l'intento del corto teatrale Metem Psychosis Nunc et Now che la compagnia Officina Teatro ha messo in scena al museo archeologico che ha così chiuso la mostra di Gianni Santagati sulle sponde dell'Imeras l'arte è intesa come mezzo di resistenza resistenza a tutte le nefandezze di cui l'uomo è capace dalla guerra all'emarginazione alla povertà assoluta questa divergenza tra occidente ed oriente e soprattutto paesi del terzo mondo ma arte è intesa anche come resistenza resistenza alla morte stessa quindi la parola il segno del pittore che diventa immortale le ceramiche dei greci che arrivano fino ad oggi che sono in un certo senso la loro bellezza è diventata immortale e per sempre e quindi voi affronti invece la problematica dell'arte più effimera che è quella lì dell'attore da qui la metempsicosi cioè intesa come trasmigrazione della parola dell'attore verso lo spettatore che rivive nell'animo dello spettatore e quindi fa sì che la parola stessa dell'attore viva in eterno a presentare lo spettacolo Antonio Vitellaro presidente di Storia Patria e il direttore Giovanni Crisosto Monucera che ancora una volta ha aperto le porte del museo archeologico alla cultura La performance che guida Michele Celeste è un invito alla riflessione e io ho pensato riflettendoci un po' a una sorta di start up culturale e di questi ce ne è tante a Cartanissette cioè giovani che si spendono con forti cariche innovative per invitare a vedere il mondo con altri occhi Secondo posto assoluto di società per la dimarca nuoto-gela presieduta da Alessia Calabrese al meeting regionale di nuoto che si è svolto a Terrasini una manifestazione che ha confermato come la società gelese sia in forte crescita nel panorama regionale grazie agli allenatori Nicolò Cucinella e Orazio Aredda gli atleti si sono distinti in tutte le gare Arianna Caccia ha conquistato sette ori e la vittoria nella gara australiana è previsto per venerdì 10 giugno alle 20.30 al Palacossiga di Gela il saggio spettacolo promosso dalla Gymnastics Club diretta da Walter Miciche lo spettacolo inizierà con una coreografia dedicata all'amore delle mamme verso i figli e terminerà con una coreografia sulla caduta del muro di Berlino il messaggio di quest'anno dedicato a ginnasti è trovarsi insieme è un inizio restare insieme un progresso lavorare insieme un successo noi abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie per averci seguito grazie per averci seguito